Bella ragazzi e bentrovati in questo 44esimo episodio con la carriera allenatore su FIFA 14 Nel momento in cui sto registrando questo video ho 99 iscritti e quindi penso che il video dei 100 iscritti, lo speciale 100 iscritti voi lo potrete vedere in settimana penso mercoledì, penso dovrebbe uscire mercoledì, spero quindi pronti a giocare contro la Juventus l'ultima partita del mese, il 29 ottobre dopodiché vediamo che partirà a novembre con il Pescara, partita in trasferta di domenica 2 novembre avremo la Champions League, dunque a Pescara far riposare molti giocatori sarà fondamentale perché il PSV ci ha dato molto freddo d'orcere all'Olimpico, figuriamoci in trasferta quindi senza perderci in chiacchiere andiamo a giocare contro la Juventus Partita fondamentale, quella contro la Juve soprattutto per capire realmente se stiamo i più forti in questo campionato, abbiamo vinto tutti i big match contro Napoli, Lazio e Milan tutti quelli che abbiamo giocato finora abbiamo però perso la Supercoppa italiana contro la Juventus per 4 a 1 non per 2 a 1 o per un risultato simile ma per un larghissimo 4 a 1 le difficoltà in Europa ci sono, in Italia finora a parte un pareggio casalingo con il Bologna dove siamo stati un po' sfortunati, stiamo dominando senza troppi problemi quindi quella contro la Juventus, ripeto, sarà una partita importantissima per capire dove siamo arrivati in Italia per capire se siamo realmente i più forti quindi battiamo la Juventus per scoprirlo crescendo in campo con questa formazione, Gervinio titolare dopo l'ottima prova di Palermo titolare anche Schar, canto a Medì Benassia è tutto pronto per l'inizio della partita risponde la Juventus con Peter Cech tra i pali poi Barzagli, Peluso, Gbonna, Isla, Pepe, Pogba, Marchisio, Samoa, Llorente e Tevez da parte Fabian, lancio per Ibra, Ibra, grandissimo stop entra in area Ibraimovic Ibraimovic, pallone a lato, aveva trovato una grandissima giocata lo svedese che riesce ad arrivare in anticipo sul difensore della Juve poi di piatto non riesce a trovare la porta, voleva il palo lungo peccato, grandissima palla goal per la Roma dopo 13 minuti Rattotti, sarà il capitano, largo per quadrato, quadrato, stessa, di ritorno per Rattotti zona di roma, il capitano, la conclusione, mamma mia pallone fuori, rivediamo perché sono curioso di capire quanto è uscita probabilmente da qui non lo rivedremo però guardate qui ora sarà rinvio dal fondo per De Santis ma guardate subito Tevez che va ad aggredire Giordialda per non far rinviare Corto Morgan allora deve rinviarla lunga dovremo stare attenti perché la Juve ha questa tattica di prestare subito molto e molto alto Barzagli Barzagli sbaglia, Strootman dentro per Ibrallivi da Ibraimovic alto Marchisio si muove a sinistra per la centrale però per Tevez che poi restituisce la palla a Marchisio una grandissima idea, attenzione Marchisio 1-0 qui ci siamo fatti infinocchiare ragazzi peccato perché si devo dire, gran palla di Tevez per Marchisio che si è mosso alle spalle dei nostri difensori io ero convinto che il pallone fosse diretto a Llorente che alla fine però non ci è andato e qui non ce l'hanno fatta rivedere tutta però voi in diretta l'avete visto sicuramente una disattenzione di pensia della Roma la prima in questa partita che però ci porta subito sotto da Juve allora a Gervinio dentro per Ibra però largo per Gervinio in mezzo è partito Ibra ma che bastardo no vabbè non è possibile ma puoi interrompermi il contro viene così posso capire mentre sto ripartendo ma quando mi lancio lancio il giocatore solo contro il portiere non mi puoi mischiare la fine dai veramente e tra l'altro questa cosa è stata se non sbaglio aggiunta tantissimo non mi ricordo se c'era su FIFA 13 ma su FIFA 14 è veramente proprio che ti fa arrabbiare in una maniera pazzesca non c'era sugli altri FIFA non capisco perché l'abbiano aggiunta visto che FIFA ogni anno migliora e su queste cose però sta peggiorando posso capire che sono dei dettagli che però alla fine fanno anche rabbia ragazzi perché non ti possono interrompere un contro piede così salta due uomini però Vucinic ho lasciato troppo solo poi serve Tevez Tevez dall'altra parte ancora per Vucinic in area di rigore De Rossi va a chiudere poi Quadrato dorme allora arriva Asamoah dentro Vucinic Vucinic all'indietro 2-0 gol di Bui gol di Bui 2-0 per la Juventus si riparte con la Roma all'attacco in questi ultimi 20 minuti sale in signa ancora in signa in signa dal fondo il cross troppo sul portiere hai rotto il cazzo però valla verso De Rossi di testa per Ibra che la mette giù la gira poi molto bene per Quadrato Quadrato è solo Quadrato in area di rigore Quadrato no 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 non è possibile io non posso aver visto quello che ho visto cioè non è possibile cazzo cioè Cesè movimento di Ibra e lui mi serve in signe va bene io ho detto sconterez poi Marchisi ho lasciato solo grandissimo ritorno di Schar questa volta e riparte Fabian poi lancio gran palla di Schar questa per Cesè che rientra Cesè Cesè dall'altra parte arriva Florenzi valla dentro Florenzi check no vabbè non ci possiamo cagare tutti questi gol ragazzi veramente cioè non è possibile minimo 30 gol a partita ce li mangiamo poi Florenzi se la trascina fuori ma come fai come fai figlio mio però la tocca per in signe valla dentro per Ibra in area di rigore e questo è il rigore però vabbè io veramente due di recupero ho come la sensazione che non dureranno come la partita contro il Chelsea questi due minuti finisce Roma Juventus finisce 0-2 allo stadio olimpico questa è la dimostrazione che c'è ancora da lavorare perché noi vogliamo sicuramente competere in Europa ma non possiamo andare a giocare queste partite in questo modo contro la Juventus tutti si aspettavano una vittoria perché la Juventus era ottava in campionato io ho letto anche dei commenti vostri che sotto mi pare tre episodi fa mi avevate commentato dicendo sono sicuro che farai il bis sono sicuro che vincerai anche quest'anno il problema ragazzi è che io aspettavo questa partita aspettavo questa partita per capire se effettivamente eravamo i più forti non lo siamo non lo siamo questa è la dimostrazione e se lo siamo lo siamo attratti e non siamo ancora maturi perché a volte buttiamo nel cesso delle partite tipo questa in maniera assurda abbiamo avuto più occasioni ma questa non è una novità magari abbiamo anche giocato meglio però concediamo concediamo troppo alla fine concediamo troppo e andiamo a prendere altri due gol stasera che sono stati molto stupidi tutti e due avanziamo in vista della partita contro il Pescara il Milan ci ha ripreso in classifica perché ha vinto la sua partita e quindi è a 25 punti come la Roma e quindi a pari punti con noi Walker dice che poteva andare meglio Walker è sveglio però attenzione perché il Milan contemporaneamente ha giocato la sua partita e quindi ha perso ha perso e noi battendo il Pescara cosa che non dovrebbe essere poi così difficile teoricamente potremo anche andare a più tre tornare a più tre il problema è che questo mi sa un po' di occasione sciupata con la Juventus potevamo allungare anche di più più che altro ecco lo stiamo seguendo e io già chiederei informazioni perché cerci proprio perché è un attivo vorrei creare ho lasciato qualche titolare per non fare come nelle partite precedenti soprattutto come contro il Bologna dove veramente lì avevamo stravolto la gara e non siamo riusciti a vincere voglio possibilmente chiuderla subito più ad app attenzione al parola perché il capitano con la conclusione c'è la risposta di Pelizzoli anche lui ex di questa partita Quittotti ha avuto una buonissima occasione non riuscito però a trovare la porta all'ora dalla bandierina va proprio il capitano il cross in mezzo a cercare Yetvai pallone a lato sarei contentissimo se segnasse Yetvai la Roma con Insigne al centro Walker Pelizzoli cioè la copertura riparte la Roma con il destro Insigne Insigne triple in seco ancora di Insigne che ne salta un altro cost to cost di Insigne ancora Insigne Insigne la tiene entra in aria Insigne e trova il suo primo col su azione terzo con la maglia della Roma il terzo in campionato il grandissimo sinistro ad incrociare imparabile per Pelizzoli vediamo un po' perché non sono convinto fosse così imparabile forse no però comunque l'ha messa veramente bene dentro dopo aver fatto veramente un grandissimo cost to cost dove è stato anche dignoso se vogliamo perché non ha mollato dopo che c'era stato il ritorno se non sbaglio di Ragusa Dubosic in mezzo per Cutolo in ad rigore Cutolo salta un uomo ancora Cutolo poi ballone dentro per Piscitella che la gira Walker poi ballone che rimane lì fuori mamma mia risposta immediata del Pescara ragazzi Strotman poi c'è Zebol lo scambio con destro ballone che non filtra poi rilancio di Pelizzoli di Testai e vai per Bradley Roma che rimane avanti poi destro 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 palo di Mattia ragazzi grandissima occasione per raddoppiare poi destro Strotman pallone per Gesè Gesè vuole andare non riesce a passare lui era Cosic Gesè gli porta qui il pallone bravissimo lo spagnolo che se ne va Gesè 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 2-0 Roma con lo spagnolo che trova il gol appunto del raddoppio e finalmente dopo il palo colpito da Mattia mettiamo anche il risultato al sicuro e adesso possiamo permetterci nel secondo tempo di far riposare anche i titolarissimi quelli che ho preferito tenere almeno dall'inizio tipo il capitano tipo Strotman anche lo stesso Walker volendo personalità di Rossi che ne salta 3 ancora Rossi poi dentro per Piscitella Vukusic 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 fuori avrei rosicato una cifra se avessi preso questo gol ragazzi perché non mi sta bene prendere gol sempre uguali in settia arriva largo a destra Michael Bradley Bradley ancora sulla corsa al centro c'è il cross bello per Cesare Rodriguez spirit soli per Ragusa ancora Ragusa salta anche il Char mette dentro e arriva il gol arriva il gol di Vukusic ero sicuro ero sicuro che andando avanti così il gol ce lo facevano e sono veramente arrabbiato perché queste sono le partite in cui dobbiamo non prendere gol sono le partite in cui dobbiamo dimostrare di avere una gran difesa gol tra l'altro preso in maniera molto stupida Strot si va a vedere molto bene Ricci che fa un buon movimento sul secondo palo c'è D'Alessandro Ricci dal fondo il cross in mezzo Cesè Pelizzoli il miracolo di Pelizzoli finisce qui la Roma vince a Pescara non sono però del tutto soddisfatto della prestazione dei miei sono contento però che torniamo a più 3 sul Milan e dunque ristabiliamo le distanze perché il Milan ricordo ha già giocato e perso beh ragazzi a questo punto direi che stiamo veramente avvicinandoci alla partita che diventa sicuramente a questo punto la più importante della Girone non più contro il Chelsea semplicemente perché 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 se non vinciamo questa penso che usciamo dal Girone questi partono da 25 milioni e mezzo addirittura per Cerci ma non se ne parla proprio quanto costava Cerci poi mi pare intorno mi pare addirittura 7 e mezzo possibile Cerci o sto esagerando beh comunque sicuramente 25 milioni e mezzo sono troppi per Alessio Cerci e quindi quando faremo l'offerta se la faremo sicuramente la faremo più bassa proveremo a trattare partendo appunto come ho detto da una cifra ovviamente più bassa giocheremo adesso contro il PSV e dunque vendicata la sconfitta con la Juventus che però ci ha fatto capire assolutamente che anche in campionato dovremo lottare parecchio beh andiamo a giocare contro il PSV Eindhoven Wijnaldum ancora Wijnaldum nello spazio per Matafs Matafs contro De Santis questa volta calcia malissimo l'attaccante che all'andata ce l'ha per due volte segnato in avanti attenzione qui la Roma è un po' scoperta deve tornare Walker Depay in area di rigore palla dentro Benassia non è finita Matafs gol De Santis si è appoggiato inginocchiato a terra poi forse ha pensato che era ora di stendersi però era troppo tardi madonna De Santis però una partita si e 10 no sono neanche sicuro che potesse far di più su questo pallone però dentro per Ilemark il cross sul secondo palo verso Baccari che rimette in mezzo Wijnaldum tutto regolare tutto regolare non diciamo nulla riparte la Roma con Insigne Gervinio Strootman di ritorno per Gervinio e allora parte Ligoriano c'è Ibra anche dall'altra parte Gervinio in area di rigore Gervinio voleva rientrare poi spostato pallone che rimane lì e poi viene allontanato di recupero ancora Baccari in mezzo Benassia perché è in fallo laterale non si capisce e allora pronto con le mani Willens la rimessa in mezzo Benassia per pallone al limite Shorts in mezzo De Pai 2 a 0 2 a 0 per il PSV a Indolen quando fa così la mia squadra mi fa incazzare come una bestia Insigne per Ibra che stava contando le pecorelle finisce il primo tempo finisce il primo tempo fuori Ibrahimo è un cambio più tattico che di rabbia perché Ibra volendo poteva anche buttarci il cuore dentro quando gli pareva nel secondo tempo ma io non faccio giocare i giocatori che giocano bene quando vogliono loro perché questa partita è importantissima e se Ibra dorme non gioca mi sembra ovvio dentro anche Florenzi al posto di quadrato per il secondo tempo è una Roma a trazione anteriore è una Roma che deve assolutamente vincere questa partita anche se adesso sicuramente è più difficile ancora per Florenzi che allora va sul pallone Gervinio sul secondo palo destro arriva nella regola il cross deviato destro Zoet salva il PSV si poteva riaprire tutto con questo gol di destro peccato Roma che arrivano avanti con Insigne 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 al limite Insigne Insigne la conclusione Zoet in calcio d'angolo Lorenzo Insigne il cross in mezzo a cercare Kevin Strootman ancora Zoet palla di nuovo in mezzo calcio di rigore se l'ha inventato se l'ha inventato quanto mi piace quando si inventano le cose considerando quello che abbiamo dovuto passare a Londra ma adesso se Insigne sbaglia il rigore io penso che tiro giù tutti i Santi parte Insigne si ferma e sbaglia il rigore da copione vabbè dai da copione Fifa è così Fifa quando non vuole vincere una partita te le fa tutte parte da Roma con Jordi Alba Jordi Alba è il momento centrale da parte di destro pallone per destro 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 colcia non tirano questo è discretamente più importante però Strootman è partito Florenzi poi non parte più ovviamente quando gli dai il pallone questa volta si è in rigore Florenzi Alessandro Florenzi e dai ragazzi in confronto alla partita d'andata abbiamo tre minuti in più e un gol in meno da recuperare bellissimo destro all'incrociare questa volta di Florenzi finalmente si sveglia la Roma a 19 minuti dal termine Locadia Depay Wijnaldum palla dentro per Depay no per favore no per favore no per favore grazie Dio grazie e adesso ovviamente sto pensando ma se Insigne avesse segnato il rigore e vabbè ci piacciono le cose difficili a noi che ci dobbiamo fare Locadia per questo potevamo anche evitare di svegliarci con 70 minuti di ritardo si sono avvicinati però arbitro si sono avvicinati cosa facciamo proviamola così per favore Strootman alto 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 poi vogliamo sempre segnare con un'ora d'anticipo dalla fine della partita destro se te lo mangi ti levo per tutto il campionato e andiamo sembrava uscito il pallone non so perché arriva il 2 a 2 di Mattia destro il gol di destro e la Roma riapre la partita anzi pareggia la partita riapre la partita no 9 alla fine ragazzi dai per favore andiamocela a prendere 2 a 2 cioè per come ha calciato l'ha presa anche di esterno secondo me sembrava uscire il pallone mi ha dato questa illusione infatti ho sultato anche con un po' di ritardo arriva il pareggio della Roma a 9 dalla fine dai così ragazzi Schar De Santis in avanti ma c'era fuori gioco da parte di De Rossi dimmi cosa ci facevi lì cioè gioca davanti alla difesa e sta in avanti vabbè Jorgensen sul pallone in avanti la mette giù Baccali il cross che culo mamma mia adesso se mentre riparto mi fischia la fine mamma mia quanto mi incasso pallone dentro per De Rossi sei un pezzo di merda è semplice la storia sei un pezzo di merda pure sei dato un minuto di recupero non ha senso che il giocatore parte sulla fascia e te fischi la fine sei un bastardo finisce 2 a 2 comunque finisce 2 a 2 questa partita ci vogliono far uscire dalla Champions ragazzi è evidente cioè dopo quello che abbiamo visto a Londra dove ci poteva perché vabbè no qui no 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 io in diretta avevo detto che non volevo rimproveragliela perché forse non poteva far di più come non poteva far di più cioè dai questa qua la parava mia nonna cioè ma come buttare le partite nel cesso ragazzi veramente questa è la situazione del nostro girone ragazzi come vedete abbiamo la stessa differenza reti del PSV quindi come differenza reti non è che possiamo più di tanto sfruttare qualcosina più che altro noi giocheremo con lo standard di edge in casa e se non vinciamo con lo standard di edge che ha 0 punti dopo 4 partite usciamo dal girone perché ce lo meritiamo proprio questo è sicuro dobbiamo battere lo standard di edge e dobbiamo battere il celsi sicuramente dovremo vincere tutte e due le partite che giocheremo e poi dobbiamo però sperare innanzitutto che il celsi batta il PSV ma penso che possa accadere senza troppi problemi e poi battere lo standard di edge con una grande differenza reti sperare che il celsi faccia lo stesso con il PSV quindi ragazzi situazione un po' complicata in Champions League io vi saluto qui mettete mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi soprattutto al canale e commentate ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti